A due settimane dal fatidico lockdown a causa del covid-19 proseguono incessantemente i controlli da parte delle forze dell'ordine, anche sul territorio del comune di Rende. Controlli che vengono effettuati in movimento, atti a verificare se le attività commerciali aperte rispettano tutte le disposizioni e se soprattutto chi viene trovato fuori lo è, per valido motivo, come previsto dalle disposizioni ministeriali. Dall'8 di marzo ci siamo preoccupati per l'emergenza e quindi siamo messi a fare dei controlli e a far rispettare il decreto del Presidente del Consiglio. Quindi stiamo provvedendo ad effettuare controlli giorno per giorno e tra questi ci sono stati anche alcuni denunciati per la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale e stiamo continuando ancora ad effettuare. La città sta rispondendo abbastanza bene e la maggior parte ha capito, però se riuscissimo a tenerli un po' più dentro le persone forse riusciremmo a uscirne in modo migliore. Allo stesso tempo numerosi inoltre sono i posti di controllo predisposti dalla Comando Carabinieri della Compagnia di Rende nelle varie zone della città, con i militari che controllano e verificano scrupolosamente il modello di autocertificazione, se contiene o meno tutti i requisiti previsti e qualora chi viene fermato dovesse esserne sprovvisto provvedono gli stessi carabinieri come le altre forze dell'ordine a fornirlo.